buongiorno 30 di ottobre fa un caldo che non ci si crede dove andiamo a cercare materiale già non trovavamo dove abbiamo parcheggiato la macchina allora stamattina parte con questa felpa non lo so giusto perché sai che siamo al fine del mese di ottobre dice un po di felpa è caldissimo stamattina ci siamo alzati con mille idee in testa per fare quelle famose rifiniture alla macchina e mille idee che però concrete non ne abbiamo ancora una però abbiamo deciso intanto di fare un giro per vedere alcuni materiali cosa è meglio per noi sempre per quei bellissimi sportellini comunque non c'è posto tutti a cerca materiali dove si dice materiali per essere generici ma insomma volevo dire che stamattina secondo me si fa un buon lavoro o quantomeno si viene però tra che ci siamo no ora noi siamo arrivati si cerca parcheggio poi scendiamo ci buttiamo dentro a tutta questi grandi del magazzino e noi ci vediamo con qualcosa si viene sempre via un sacchettino di vitini codadini qualcosa sì però volevo ricordare no tra che ora siamo così tra amici tra amici quando ci sono i nostri video no a chi piacciono a chi ci segue se non l'avessi ancora fatto iscrivetevi su youtube perché comunque no a volte vengono guardati perché comunque c'è il link da guardare uno dice riguardo i tuoi video ok e ci fa un grandissimo piacere però se vi iscrivete se vi iscrivete tanto è gratis dai quello che è gratis si fa volentieri voi vi iscrivete un po' al nostro canale sì è un po' come dice la mia mamma io mamma hai visto il video ma c'è da pagare no mamma allora lo guardo e questo lo dico anche a voi è tutto gratuito anche l'iscrizione però a noi ci fa veramente un un gran piacere ci servono tra l'altro abbiamo raggiunto i 3.000 iscritti grazie 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 ora ci buttiamo dentro tra viti vitini carta cartone tanto poi vi chiederemo il consiglio di quello che pensate sia meglio se non troviamo quello che ci ispira subito a dopo ciao guarda che sono belline queste ora cosa ci si possa fare non lo so però non sono belline cioè alla fine sono un po' come quelle nostre azzurre no? sì che dovrebbero essere queste tipo se è da 20 litri però sono molto belline anche due piccinine messe lì per metterci cosa? non lo so qualcosa comunque gente qua ci sono degli spoiler perché abbigliamento termico poi svegliamo il segreto la voglia di partire è tanta ora in realtà siamo venuti per prendere dei rivestimenti delle pitture ma la tenda? è un ripostino cioè il tavolino però poi ti ci trovi anche queste cose qui che subito alla pente ti affiorano dei ricordi eh oh dillo un po' ma se la mascherina davanti della macchina è l'ultima volta che siamo andati lassù a quel freddo e ci sono avanti tanti puntini sulla vernice no? ma se non si tinge di nero la mascherina che è venuta via un pochino di vernice guardalo qua per carrozzeria è nero cofano è opaco questo qui dici algo opaco? eh oh eh oh questo è nero bumper black questo qua ti viene come il sotto tipo il paraurti sai quello che sono già neri? che effetto plastica ma la mia complessità è tiene? più che tiene dove c'è quella vernice che è venuta via quel buchino lì va un po' carteggiato eh un pochino si sennò ci può fare anche rosa eh giallo guarda bello ma questo ma è tutta roba per cosa? per c'è scritto acciaio zucco per legno ma non c'è il patinto? legno dentro ma? bisogna capire se si vuole tingere o se si vuole vestire perché anche quelli che ci hanno dato maestrali delle foto è bella eh però ci vuole un fondo lì un fondo eh io direi un fondo lì e poi questa idea delle foto se no anche un po' di moquette ehi ehi guarda che rimane bene eh a parte che non è moquette però guarda eh un bel prato no per l'amor di Dio però metterci quella roba lì mi sembra andare a appesantire e ci rimetti queste queste sono tipo come quella che abbiamo già sui sedili si è questa eh però ci servono doppi led eh ci servono sia per tutta la parte esterna si e poi se si vogliono mettere anche dentro la parte dentro però stiamo cercando di capire da vedere ma che cambiano anche la luce? volendo si quando si va col cambio luce si perde il telecomando si perde subito dai metterli tutti bianchi e mettere questi qua dentro ma bianco com'è? luce fredda luce calda eh? eh bianco freddo mmm bello bianco acceso non so forse mi calva più una luce calda eh allora mamma mia che lavoro allora per quanto riguarda il rivestimento di quelle pareti comunque siamo convinti perché cerca farti spiegare guarda alla fine mi sa che si va con le fotografie belle le nostre foto dei nostri viaggi quelle un pochino più importanti e forse si farà così ora siamo a discutere sulle luci sui led cioè discutere ci si confronta io li metterei oh manca il tempo di ragionare sui led abbiamo già cambiato idea perché me ne è venuta un'altra di idee luci lucine led leddettine sicuramente tanto poi ci danno noia quando sono accesi ti picchiano sempre nell'occhio quelle cose lì allora visto che siamo in zona che si fa una capatina che è non ci si fa mi è venuto in mente ci sono quelle belle lucine sai da scrivania con la pizza una la mette qui e viene giù e quando si cucina e va bene si apri qua e apri e c'è tutto e c'è tutto e c'è tutto e c'è tutto però e via andiamo a ricca vai che ho come la sensazione che quando si comincia a farci prendere da tutte queste cose la voglia di partire è tanta allora fra che siamo lì no? io ora poi il mio cervello lavora perché ogni viaggio che poi si fa ogni esperienza che fai ti rendi conto di tante cose che vanno cambiate quel bellissimo kit che noi abbiamo delle pentole sai che sono belline da viaggio che vimpili è molto pratico è molto bellino però ci sono dei piattini piccolini così ma voi avete presente quanto si mangia noi? non c'entrava niente quei piattini andiamo a cercare i piatti di plastica quelle rigidi la plastica rigida che lavi e però sai una misura via andiamo 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 via andiamo andiamo via andiamo andiamo via andiamo andiamo un metro posso anche sentire ha preso anche il carrello eh quando prende il carrello l'amere qua la situazione si fa dura meglio il carrello la vista ma dopo va a cercare una coperta di pelliccina finta così che fa già caldo a vederla perché a me mi galba tutte queste osse tipo una cosa così no? però a me il rosa non mi galba no ora mettere la luce rosa ma illumina almeno un po'? si oh no rosa non mi galba rosa ora pensavo alle maniglie dietro diciamo dove ci si tiene il passeggero no? che sono corte così però questa vedi che se anche te la ribarchi cioè se la stringi però ti resta la larghezza è comodo per metterci la roba allora segna che si trova dove sono gli accessori della cuscina esposizione mobili quindi bisogna tornare giù no tutto giù esposizione mobili e cucina la cucina di là con quei cestini che sono fuori giù 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 ehi la cocchiera ti mandano dalla parte non ci sono io ne voglio le più grandi io volevo pure lì allora gentilmente la ragazza è andata a vedere al computer vedai se mi ha avuto il testo che quelli ci stanno due ne voglio lo vuole a tutti i posti grazie grazie niente amore gli ho chiesto se vi posso andare a quello dell'esposizione però devo andare nel reparto cucina a sentire di nuovo indietro? si ci torno e voglio e mi la dà e mi la dà lo sai cosa? non solo cioè mi ha dato quella disposizione ma con questo non vado alla cassa vado all'angolo delle occasioni e mi fanno il nuovo prezzo anche scontato allora metto tutto dentro e si va ma va c'è da prenderti fuori quindi anche gli interni della macchina come accessori ogni tanto vanno rinnovati un po' come si fa quindi quest'anno me la sento così quadrettone vedi così perché poi non ci va a mettere le prende così che magari su su copri piumino eh ma anche a quello sono arancioni neanche il carrello neanche la busta siamo venuti all'Ikea per comprare tutto e non si è preso niente si è preso un bellissimo barattolo del caffè perché ci serve la famosa bustina e poi ho trovato questa griglia col manico che si piega e che quindi entra bene il cassetto per quando non accendiamo il fuoco però poi quando sei lì che guardi le cose fai confronti magari dove le hai visti prima e ci conviene allora prenderle dove le abbiamo visti prima è una questione di prezzo ma anche una questione di misure di insomma di tutto dai via gente sono così sono quelle giornate che compreresti tutto poi ti metti lì e non c'è niente volevo prendere tutti gli addobbi natalizi per la macchina ci sa sacchiappelli arancione e non ci dicano secondo me bisogna comprare sacchiappelli nuovi ah oh comunque ora gente andiamo a mangiare forse è meglio di tutti eh sì perché poi almeno noi due ci sa questo questo difetto che quando hai fame quando iniziamo ad avere fame non ci si trova più d'accordo su niente siamo nervosi non ci calma niente allora mangiamo e poi dopo si vede cambio tattico alla guida ok mangiare abbiamo mangiato adesso la mele ci porta a casa e andiamo a ragionare un po' su tutte le cose che abbiamo trovato e non abbiamo comprato perché ovviamente ne abbiamo trovate troppe non sapevamo quale prendere sì ma ora voglio prima andare a lavar la macchina via gente comunque se volete consigliarci qualcosa nei commenti e vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi al canale che ci fa sempre molto piacere no ma guardate non costa niente veramente e lo so a volte uno c'ha un po' timore no ora con tutti già tutti questi link con tutto quello che si sente ma quando vi si dice nel zanzo del video basta fare tic iscriviti oh c'è da fare niente ne inserire password mail niente solo un clicchino grazie grazie ciao a tutti there was once a day that I would pray for you I'd go and misbehave just so you'd notice too seeking looks up and down from across the room damn what a hell of a view I feel good you look great I like you I can't wait our first time our first day you